Logicamente ci sono gli stagionali quindi molta gente è del posto, però diciamo che il turismo è ripreso abbastanza bene con gente che viene da fuori regione e il boom è previsto per agosto e insomma ci stiamo riprendendo abbastanza bene. In piena stagione estiva il settore che ha risentito più di tutti è quello turistico, il caso più emblematico dopo il lockdown post pandemia dove i flussi hanno subito un tracollo notevole. Secondo l'ultimo rapporto Istat il turismo vale a livello nazionale 25,6 miliardi di euro di fatturato, il 6% del valore aggiunto totale con 283 mila addetti in 52 mila imprese diverse. La capacità ricettiva è caratterizzata da un ingente numero di piccole strutture alberghiere che hanno subito un calo notevole di presenze di clienti rispetto alla scorsa stagione. La pandemia ha zerato un'attività che proprio nel trimestre marzo-maggio ha la sua fase di rilancio stagionale favorita anche dal susseguirsi delle festività. Quando manca una settimana luglio siamo a un 50% di presenze in meno, adesso vediamo questa settimana come andrà a finire per avere un'idea precisa. Hanno rivolto delle richieste particolari per anche le norme di sicurezza anticontagente. La gente si informa, vuole sapere come si deve comportare in hotel, quali sono le misure prese per la sanificazione, per il buffet, la gente chiede, vuole essere un po' anche rassicurata. Comunque finora diciamo che è andato tutto bene. A Fano la stagione è secondo, gli operatori balneari procede discretamente. In città nell'ultimo periodo sono arrivati anche turisti abitudinari che alloggiano e frequentano la città e le spiagge fanesi. Guarda, un po' di italiani ci sono sicuramente, è vero che è un turismo mordi e fuggi, tre, quattro giorni, due giorni, tutto incentrato esclusivamente sul weekend. Però non ci lamentiamo, insomma un po' di presenze ci sono. Ho avuto anche degli olandesi e dei norvegesi, si possono contare sulle dita però anche qualche straniero è passato, insomma, ecco. Non mi lamento, un po' di movimento c'è. Le regioni di provenienza di turisti per la maggiore sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Hai trovato diciamo la città o insomma era una casa? Sia la gente che la città, la spiaggia, veramente qualcosa di stupendo, veramente. Merita, Fano merita. Noi veniamo da Carpi in provincia di Modena. Prima volta qui a Fano? Io a Fano ci sono venuta da quando ero piccola, quindi sono passati diversi anni, diversi decenni. Quindi poi ho continuato a venire con i miei figli quando erano piccolini. Noi ci troviamo bene, sì, una spiaggia tranquilla e l'ambiente tranquillo. Diciamo che la situazione post-pandemica non ha spaventato anche nel fare le vacanze. E un po' ci eravamo preoccupati, poi abbiamo telefonato e niente, bisogna continuare poi a uscire e a convivere con questa cosa che ci è capitata. Ho 59 anni e 59 anni che vengo a Fano. Come trova la città? La città bellissima e anche le persone sono molto cordiali e io mi trovo proprio bene. Sono sempre venuta per questo motivo, anche se sono mezza marchigiana perché il papà era di Fano. La situazione post-pandemia non l'ha spaventata anche nel spostarsi in altre zone? No, perché ho seguito le regole. Io vengo dal Veneto, per cui là le regole sono state abbastanza serrate. Ecco, l'unica cosa che vedo è che anche qua, lungo le passeggiate della città, qui a Fano, le mascherine non le hanno. Mentre io e la mia famiglia siamo gli unici a viaggiare con la mascherina, ma noi insomma veniamo da situazioni un po' forse più pesanti delle vostre. Perché il Veneto è stata una delle regioni più colpite. Però devo dire che questo non mi ha fermato e sono contenta di essere qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.